Mauro Solari, la ronda, è in sala. È stato ricordato il dibattito con la ronda. Non l'abbiamo fatto con la ronda. C'era un problema, voluto dal comune, spontaneamente. C'è stato un problema, non esisteva 0 e 0. Per cui, andavamo lì, ma lo per sempre, questo non si può discutere. Potete discutere tracciato, ma non l'opera. Sulla varietà delle tracciate, una è stata esclusa perché l'autostrada dice che siamo passati qua dove ci sono delle impianti dismessi. Anche in che viene una dell'alzado, invece, ma veramente quell'impianto dismesso ci stanno avrando mille operai che fanno turbine. Questo è per capire l'approfondimento con cui sono stati pesati i vari percorsi. La gronda è quella riga azzurra che vedete qua e che farà il raddoppio dell'autostrada che attualmente passa vicinissimo alla città. Qua c'è il famoso Ponte Morandi. L'autostrada a Genova viene utilizzata per la strada cittadina, questo è il caso di stanza rara. Però il 40% del traffico autostradale è traffico interno alla città. Sono già mandato. L'altro 40% è verso l'esterno e il 20% è il traffico di attraversamento. La gronda, che non si può impugnire, passa fuori dalla città, intercetta solo il traffico di attraversamento. Allora, prima domanda è 7. La risposta è che serve molto poco. Che problemi ambientali pone? Beh, 18 mila tonnellate di rocce ambientifere scavate. 18 milioni di tonnellate di rocce ambientifere. Sappiamo che la legge non ci tutela. Quando l'Istituto Superiore di Sanità ha proposto di abbassare di un ordine di grandezza, limite, per cui le rocce da scala sono considerate rifiuto, il precedente governo ha detto no, non è possibile perché sono terzo varico e gronda, costerebbero troppo. Quindi l'aspetto sanitario è completamente cancellato. Autostrade, quanto meno si è a posto del problema, mi hanno ancora dichiarato che c'è. Cociv, terzo varico, ha sempre sostenuto che l'amianto non esiste, che avrebbe attraversato rocce senza amianto, quando tutti, conoscendo la geologia della nostra regione, sarebbero benissimi che le rocce sono amiantifere in sponda sinistra del cocivano. viene fatto, il trasporto delle rocce amiantifere viene fatto con un fangodotto per evitare il trasporto di accamini. E questo fangodotto viene messo sul torrente Polcevra, 540 pali messi sul Polcevra. si fa lo studio idraulico e si dice, ah, i pali sono assimilabili a un muro. E quindi ipotizziamo che il Polcevra si restringe rettamente. Solo che le condizioni prodinamiche attorno a un palo sono completamente diverse da quelle attorno a un muro. di un muro, il rischio di fenomeni strattolini, di quindi vibrazioni indotte nel palo, o anche banalmente il fatto che arrivi una carcassa d'alto durante un'alluvione dentro un palo comporta il fatto che poi per effetto domino cadono tutti, peggiorando quello che uno dei nostri problemi di Genova è quello dell'alluvione, che è un fatto purtroppo sistemico. Autostrade Senza dichiara che vengono intercettate 61 sorgenti dicendo che non c'è problema, facciamo un acquedotto e portiamo i contadini e l'acqua. Il problema è che si autogono le sorgenti, non ho solo un problema di irrigazione ai campi, un problema di modificazione del paesaggio che non è solo un bel vedere, ma anche l'aumento del rischio di fare così. Ora, noi abbiamo presentato tutta una serie come tecnici, come il Tato Logro, ma i tecnici siamo uniti perché c'è stato un movimento, ha lanciato via internet una richiesta dicendo abbiamo bisogno dei tecnici per fare osservazione alla valutazione di parte militare. e abbiamo risposto un certo gruppo e abbiamo presentato in una siccia documentazione. La cosa che un po' ci ha stupito, ma non troppo ci aspettavamo, è che quando siamo andati a Roma a parlare con la Commissione Via, con i tecnici della Commissione Via Nazionale, l'interlocuzione, ad esempio, sulla Mianto è stata abbastanza anche interessante e positiva. Ad esempio, Autostrade ha chiesto da consulente, non ricordo il nome, l'istituto universitario torinese, che aveva fatto un bel dossier sulla Mianto. in questo dossier però si diceva la caratterizzazione della Mianto, ad esempio, la facciamo a 30 km dove lo scaviamo, quindi vai in un percorso di 30 km in camion, poi il camion lo scopri dopo se hai fatto un trasporto di merce quindi in due sostanze è pericoloso oppure no. Quindi, evidentemente, questo qui quantomeno è stato ammesso nelle prescrizioni che la caratterizzazione hanno fatto in sito, anche se non è banalissima. Il tema, però, principale, cioè l'emissione dall'impianto di trattamento da 600 tonnellate l'ora di valceme antifere non è stato affrontato perché l'autostrade dice non faremo una struttura completamente sigillata e quindi l'emissione sarà a zero. Ora, tecnicamente, io mi sono occupato da molti anni per cui il trattamento delle reprime, questa cosa non è semplicemente possibile. tratta individuare anche un tipo di filtri in maniera neanche in grado di trattenere trattenere particelle da micro e sapete che le fibre da minato sono da dimensioni estri. Doviamo dire che questo è stato riconosciuto, per esempio, se io prendo la delibera regionale di trovazione della gronda, si dice l'opera indispensabile all'opzione zero non esiste, rica successiva non è stato possibile da valutare le componenti aria, suono, sottosuono, rumore, vegetazione. Però, è affrontata. Allora, a fronte di questo cosa succede? il gronda, la trigene, 43 vittime, innanzitutto, il morandi e si scatena una campagna mediatica, la colpa è l'enegro bronda. Perché se ci fosse stata la gronda, il ponte non sarebbe provolato. Ora, ripeto, la gronda eliminava il 20% del traffico. Nel progetto della regola gronda, il ponte malattico continuava ad avere traffico pesante, che non sarebbe cambiato quasi nulla. Ma, tant'è, il messaggio che è passato, che se tenta di far passare, è questo. Devo dire, ultimamente, no, come anche gli insulti di me social, il sito degli assai, sissimi, è stato tagliato l'acqua uno dei rappresentanti dei una gronda l'acqua in casa, quindi anche sabotaggi. Devo dire, in parte, questa cosa si sta attenuando, però, ormai, la gronda è diventata un simbolo politico, non è neanche più un fatto tecnico. L'altro giorno sono andato in casa dell'unimico, come dire, non so, sono andato a parlare una fondazione dei costruttori genovesi, ho portato dei dati in cui si dice noi abbiamo delle alternative che si chiama strada mare e praticamente una strada che parta da questa zona e arriva fino al centro città. È complessa come opera, costa però un terzo della gronda, la gronda costa 4 miliardi e 750 milioni, quello che costerebbe 1 miliardo e 4, non sarà comunque significativo, però che mi toglie il traffico della città e nello stesso tempo mi allontano dalle case il traffico, quindi riesco ad avere i cittadini che respirano dell'aria che si chiama, anche se ovviamente la risposta principale deve essere nel trasporto pubblico, solo che anche lì noi abbiamo da molti anni la realizzazione iniziata l'effettuazione del nodo ferroviario di Genova che era la quadruplicazione dei binari sulla tratta interna della città di costa ma questo lavoro non sta andando avanti pare che ora ci sia l'accelerazione per cui finirà il mezzo milio 23 ma la regione ad esempio che ha fatto il contratto con Trenitalia che va fino a 32 senza prevedere i nuovi treni quindi anche nel momento in cui avremo la pubblicazione dei binari non avremo potenzialmente un servizio un buio interno della città problema delle merci noi siamo convinti che le merci vanno trasportate via ferro ma questo non significa che si deve fare il terzo valico il terzo valico tutto si concentra qua nella banca c'era dove verranno spesi che si fanno due opere promuovendo il terzo valico oltre 10 miliardi di euro il terzo valico vale 6 miliardi 200 miliardi o non può più tardi qualche giorno fa sui giornali cittadini è comparsa il nostro comunale d'Italia del presidente dell'Istituto Internazionale delle Comunicazioni dice non capisco che sia quale gente che si può il terzo smette io le ho detto forse perché il terzo valico è troppo pendente dei treni che tu dichiari che sono essenziali di 2.000 tonnellate ora scusate 2.000 tonnellate per treni da 750 metri di lunghezza lì non ci passeranno mai perché è troppo pendente il giorno dopo lo incontro mi dice sì lo so cazzo valico ho sbagliato come progetto però ho fatto di fronte a queste constatazioni diventa anche difficile allora noi stiamo cercando come gruppo di tecnici di presentare delle alternative perché i problemi sono effettivamente pesanti il traffico non nasce oggi solo a causa della caduta al ponte è diventato veramente soprattutto per l'asfalto cera che è stata da quattro strade è statuta e quattro bloccati dalla cera del ponte è diventato un problema veramente grave quindi c'è l'emergenza devo dire che l'emergenza comune non ha l'ora quindi cerchiamo delle alternative però sapendo che non basta per costruire il ponte non basta rifarlo come era lo dobbiamo fare tenendo conto di nuovi carichi di servizio ci stiamo lavorando sperando nelle contraddizioni di questo governo che qualcosa si riesca a ottenere io temo che ci sia uno scambio politico lo dico chiaramente perché non si faccia la tab che si faccia il terzo valico dando un colpo a cera che non ha la cotta spero che non sia così spero che effettivamente le valutazioni con questi benefici siano una cosa seria penso che sarebbero il mercato dell'orario grazie